Segui La7 anche su Instagram, La7 ovunque con te. E anche Salvini, altro ministro del governo Meloni. Di che stiamo parlando? Tanto è tutto un teatro. La cosa funziona così. Il mercato dell'energia elettrica e del gas è libero dal 2007. Le persone che non scelgono con quale operatore andare rimangono in un regime dove l'autorità ha fissato i prezzi di mercato, quindi non è che siano prezzi più vantaggiosi. Bisogna far finire questo sistema perché non consente alla liberalizzazione di fare quello che hanno fatto sui treni o sulle telecomunicazioni, cioè abbassare tutti i prezzi. Tuttavia io nel 2017 fermai la cancellazione di questa maggior tutela perché il meccanismo con cui lo si fa è un meccanismo particolare perché si prende il cliente che non ha scelto e si assegna a un fornitore tramite un'asta che lui non conosce. Quel fornitore non farà i soldi sull'energia ma farà i soldi su servizi aggiunti con cui perseguiterà quando riceviamo le telefonate il cliente che lui neanche conosce. A me sembrava, è sempre sembrato un sistema troppo brutale, quindi principio giusto, un'implementazione pericolosa. Però c'è un fatto che la sinistra, e questo è un teatro sconcio, non può imputare alla Meloni questo fatto perché l'abbiamo votato noi, compresa la Lega, nel governo Draghi. Se adesso noi votassimo gli emendamenti proposti dalla Schlein che fa finta io non c'ero e se c'ero dormivo, con tutto il PD, noi perderemmo la terza rata del PNRR. Ce la richiederebbero indietro, quindi il tema è come andare alla Commissione europea tutti insieme per una volta, perché non è colpa del governo. E io voglio essere onesto su questo, perché mi sono molto stentato. E andare a trattare su questo se riteriamo che sia una roba da trattare. E come farlo? Però io le chiedevo di Salvini in particolare perché mi colpisce, lei giustamente ci ha ricordato che Schlein ha detto. Salvini l'ha votata? Sì, sia la prima che la seconda volta intendo dire. Ma questi non sanno manco che votano. Cioè il problema di tutto questo film che noi vediamo è che è un teatro. Perché la Meloni che era favorevole al salario minimo adesso non fa il salario minimo? Perché lo promuone la sinistra. Perché la sinistra che era favorevole alla cessazione della maggior tutela adesso è contro? Perché la vuole imputare alla destra. È solo teatro. E noi possiamo continuare così per 30 anni. Vediamo se restiamo dalle parti del teatro. Possiamo continuare per altri 30 anni. Dobbiamo solo sapere che da 30 anni a questa parte, questo modo di fare politica, ha fatto perdere l'Italia su ogni settore. Dalla cultura, alla scuola, alla sanità, ai salari. E quindi io penso che forse bisogna uscirne e cominciare a parlare un linguaggio di verità. Lo scontro tra magistratura e politica è teatro? Ma certo che è teatro. Ma può un ministro fare un'intervista in cui dice di fatto c'è un tentativo di colpe della magistratura e poi gli dicono scusa ma perché non vai all'autorità preposta a segnalarlo? No ma in fondo io volevo solo dire una cosa storica, cioè che la magistratura è politicizzata. Ma che modo di fare è? Io penso che la magistratura sia politicizzata e credo che il modo per risolvere la questione è fare le riforme, separare le carriere. Ma uno non può, facendo il ministro, dire ma sai c'è questo piccolo tentativo di colpe però insomma adesso il giorno dopo me lo mezzo rimangio. È tutto teatro, è come lo spot dell'esse lunga, è tutta una discussione che non porta e non approda mai niente a un solo obiettivo. L'obiettivo è quello di nascondere il fatto che non si fanno le cose e dare al cittadino, dire al cittadino tu sei de' destra, mi raccomando, ricordato, tu sei de' sinistra, mi raccomando, e non si fa niente.